RICIAO Sì, questo è proprio il gameplay numero 20 Spero di riuscire a metterli in carica tutti entro la fine di questo 2015 Perché voglio portare a termine Rise of the Tomb Raider entro la fine dell'anno per Xbox One In teoria non dovremmo essere molto lontani dalla fine del gioco Quindi se niente va storto, cioè se tutto va come deve andare Dovrei riuscire a portare a termine il gioco Mi auguro, veramente e proprio Allora, lo storyline ci aveva visti praticamente arrivare con Lara Sto parlando come tra pattoni tra l'altro Stavamo per salvare Giona Trova un modo per distruggere il cancello Eravamo arrivati qua Scusate intanto io devo regolare il volume perché è eccessivamente alto Se no poi voi sentirete il volume doppio Eravamo arrivati qua Eravamo arrivati qua Con la nostra amica Lara eh Sono già abbastanza stufo Il gioco in teoria dovremmo essere abbastanza vicini al finale Non ti rimane molto tempo Lara Devi trovare la sorgente prima di loro Non puoi fare più niente Cerca di metterti in salvo Scordatelo Tu hai bisogno di noi così come noi abbiamo bisogno di te Insieme sopravvivremo Da soli moriremo Ora vai che sono già abbastanza stufo E quindi da qua Che cazzo devo fare? Non è consigliabile buttarsi di qui Forse devo passare di qua Ok Dovremmo saltare lì forse Vai Vai Corregine Facca di Lara di affare Il gioco ci dà Che praticamente Cazzo fai Dobbiamo scendere giù E quindi Forse non era di qua Ok Praticamente torniamo indietro Perché mi dà da lì? Ah ma forse dovevo fare qualcosa lì in alto Perché qua se cadiamo Mochiamo Lara che cazzo è che dobbiamo fare qua eh? Allora dobbiamo tornare su Credo Non lo so Mi sono stufato Ah c'era il coso qua Quindi? Non sto già capendo più niente Ah di affare L'ho visto Lara Perché? Ma perché? D'altro lei non ha più frecce Ma non ho più frecce Di affare Dove le trovo? Guarda che ruba Non ho manco più una freccia Incredibile Che cacca accade Scusate ragazzi Iniziamo bene il gameplay E devo già mettere in pausa Aggiungerei anche un bel Birf Scusate ragazzi Già una telefonata Bene Iniziamo bene direi Questo gameplay Guarda che ruba Sono stufo eh Cos'è che ha Lara qui Che si è incagliata Cos'è? Madonna Fatti curva Lara Non fare La tripe Guarda che ruba Ok Fino qua ci siamo Qua Dobbiamo saltare Mardente Credo Attacchiamoci Col signor Picozzi Lara Perché Ma perché Ho un sacco di video da mettere in carica Spero di riuscire a metterli In carica entro la fine dell'anno Altrimenti ragazzi Dovrete Vedervi il finale E qua? Ah inizio 2016 Non so che dire Devo raggiungere la cima della torre Ma la strada è bloccata dal ghiaccio Ah Forse devo distruggerla Deve esserci un modo per spaccarlo Ah ecco C'è questa specie di Quella fare lì Devo far girare quello Ok Affanculo Cretina Guarda che ruba Lara dai Dagli in avanzata Sto coso Affanculo Sto coso Mi piace E quindi Devo fare più forte Non ho capito Guarda cosa si faceva Niente Non ne vuol saper di andare Ah ma mi devo attaccare? Si capisce Fatto di un male Che te lo raccomando Adesso qua dobbiamo utilizzare le frecce Quelle che si attaccano Ok Ok Una L'altra la metterei qua E l'altra Ok Adesso da qua Vai Lara Taccatui Bravissima Lara Ma sei minorenne? Complimenti Bellissima Lara Però io vado solo con le minorenne Per cui qua mi sembri abbastanza giovane Forse le minorenne Da lì C'è un ostacolo Devo liberare il passaggio Chi? Ah come giocca del Piero Cosa è successo? Ah devo Devo distruggere No Devo girarlo di qua Per liberare l'altro cancello Dai Lara Che sono già abbastanza stupo Eh Lara Perché? Ma perché? Ok Un po' più indietro Un po' di Ma dio fa C'è un ostacolo Devo liberare il passaggio Ma passa Ancora E mo' come faccio a togliere il video? Forse devo Non credo che basti questo Proviamo Non sono abbastanza forte Eh ma Cristo Cosa serve Fare sta cosa? Posso girare il trabucco E in questo modo potrei riuscire ad arrivare là Ah Che palle Il trabucco Come dice Silvio Il trabucco Quindi dobbiamo ritornare Cosa fai Lara? Dai Lara Basta che mi state rompendo Va bene? Mi sono sfavato Allora adesso lo arriviamo qua Ok Così Poi da qua Saltiamo Dal trabucco Ok Adesso Lo attacchiamo qua Praticamente Credo Ok E poi adesso Praticamente Girandolo Dovrebbe staccarsi No? Credo Non ci sto capendo Più niente Ok È andato Ha funzionato Ora devo abbattere le quattro Era anche ora direi Ok Adesso dobbiamo peccare Questa maledetta Mortla Questa Che è quello La fai Che è quello Per la giro Merda Che roba Super palla di fuoco Bene Che cosa accade? Ah Giorno Ti ancora mai Ti affano Mi hai distrutto il coso Guarda che roba E adesso Passa l'altro Trabucco Ma basta Corri Lara Che sono già Abbastanza stupo Eh Dovevo attaccare qua Niente Lara Perché chi Ma perché Io aspetterai ancora Un po' Fossi in te Lara Lara Da te da me Crettina Maria Donata Vai Non è franco Fanno entrare i barbonieri Ma l'amori ha ammazzato Niente Un bacio Ma l'amori ha ammazzato È mortale Ok Adesso dobbiamo girare questo Io penso Ok Fare un salto pericolosissimo Lara Cosa è successo Mi piace da qua La Attacca di Cretina Amanda È libera Come Una rondine Ora Può vivere Nella nuova Realtà Ma Dove siamo Ormai È buono Ok Ok Poi da qua Oddio Guarda Aiuto Ma l'avamo Riammazzato No Idiota di donna Aiuto Non ho più colpini Aspetta Bastardo Basta Basta Non ce ne può più Basta Non finisci più Sto gioco Lara Cosa ci sento E da qua Arriverò lì Larua Attacca tu Idiota di donna Forse possiamo passare Di qua Normalmente Arrivando Sì Dio sia lodato Adesso Di qua Possiamo Salire E adesso Siamo arrivati All'altro Trabucco L'altro Trabucco Eh ma Calibio Un altro Peso L'ultima Volta Ha funzionato Un bacio Amame Tu Bene bene Che io lo tiro così Si gira Attenzione Alzone Ancora Un bacio Amame Tu Quindi ancora Una volta Forse No Così lo tiro di là Idiota Sono un idiota Lara Dio Fa Accade L'avevo spinto Però forse Devo dargli ancora Una bozza Verso di là Se io lo faccio Lo tiro di qua Allora Se lo tiro di qui Questo gioco Mi sta stufando Va bene Ok Adesso Possiamo Sperando che non muore Idiota Sono Lara Cosa Ti sento Mi devo buttare Da su La spia Namu Clara Stiamo rompendo Va bene Mi avete stufato Ok Da qua adesso Un po' Che idiota Devo trovare qualcosa Da usare Per tenere in equilibrio Il braccio Della grotta Cosa adesso Basta Cosa devo fare Ancora Cioè L'ha detto Ma non ho capito Cosa c'è adesso Perché mi indica Lassù Devo andare Lì in alto Ma basta Ma per què Devo andare In alto Qua Ma come Come Ah Ah d'accordo Cos'è L'ha detto Perché Ma Perché Cosa Idiota Ok Adesso Da qua Dobbiamo saltare Qua Quindi Ah Che cacca è Sta cosa Ah Mamma mia Sono riuscito a bancarlo Da qua Vai Questo dovrebbe Tenere in equilibrio Quindi Adesso Basta Buttarmi da sopra Facciamo il giro Va Che neanche vitti Oh Questa l'ho tutto messo apposta Perché Lara Possa arrivare Dove deve arrivare In teoria però io dovevo Buttarmi di nuovo Da sopra di là Non da qua Quindi io rifaccio il giro Chantuo Da qua E poi Da qua Silvio Aiutami Silvio Proteguimi Mi sono fatto malissimo Forse basta salire All'anima della Madonna Dolorata Quindi basta che salto da qua Forse Ah C'è il trampolino Via qua Un po' più Eclibio Come molto più in alto Basta Sleppiù Ma Ah vuoi vedere che da là Devo saltare lì Perché adesso me lo Proviamo così ancora L'avevo fatto prima Vediamo Idiota di donna No Mi sa che allora Non è da qua Devo per forza Andare su C'è qualcosa Che non 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 Perché il gioco Mi dice di nuovo Di andare su Oh Madonna Silvio Aiutami Silvio Ti ho invocato inutilmente In questo 2015 Silvio Silvio mio Silvio tuo Silvio nostro Silvio nostro Silvio forever Silvio vincerai Silvio perché mai Silvio dove vai Daniele Smettila Ma forse Dovevo spingere Questa cosa qua Cosa fai Idiota Non capisco Ho capito Che questo Adesso Gli dà lo slancio Ma io Come arrivo lì Forse mi devo buttare Da qua Dai Lara Che sono già Abbastanza Stufo Eh Ma Cristo Allora Non capisco Proprio cosa Bisogna Perché scusate Da qua Io basta Che salto E lei Ci deve Arrivare Lì Un po' Più in alto E niente Allora è come ho fatto Prima Il salto Da leggermente Più in alto Mi viene da pensare Quello Perché se io mi busto Giù di lì Poi una volta Che ho fatto Quello Forse Adesso Forse Silvio Forever Silvio Dimmi cosa fare Non riesco a capire Cioè Così Non ha senso Così Forse Così Nemmeno Quindi Ma Non mi ha fatto male Forse La leva sul secchio Serve per chiudere Il meccanismo Di scolo Devo far andare Forse Forse Ci sono arrivato Dopo Sei ore Ma Silvio Non capisco Ma Dio Ma Dio fa Devo solo Chiuderlo Ma vaffanculo Adesso Adesso Dovrebbe Entrare Comunque Proviamo Ma Ma Cristo Adesso È troppo In alto Non è possibile Ho fatto Malissimo Tra vent'anni Probabilmente Riuscirò A fare Quest'ultimo Enigma Probabilmente Uno degli ultimi Del gioco Non lo so Ragazzi Non ne ho idea Allora Un attimo Il peso Dovrebbe Spostarsi Nella posizione Giusta Quando il secchio Si svuota Ah Quindi adesso Devo riaprire Vai Silvio Ce l'abbiamo Fatta Però forse Silvio Devi correre Silvio Corri Silvio Vaffanculo Ma che è un po' Fin alto Che fa Basta Ce l'ho fatta Vaffanculo Sto gioco Di merda Dio santo Daniele Allora Ci siamo Ragazzi Finalmente Dopo otto Ore e mezza Tribio Scena Anche ora Basta E' Mandate Ammazzati Ammazzati Malenti Vaffanculo Crecini Anderemo Riammazzati Ola Adesso c'è di un altro E' cazzata Alla 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 Silvio 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 forever Devo andare lì o devo distruggerlo? Guardate perché non vorrei poi andare fin là Ah no, devo finire di distruggerlo Menomale che non sono andato fin lì Questo serviva principalmente per distruggere l'ultima maledetta porta Sparato, malissimo Lontanissimo dalla porta, Dio, fai Giriamo ancora un po' Silvio proteggimi Ora Ah, che ruba Ah, perfetto, fai ora Oh, là Attraverso il ponte Finalmente, li direi anche Cazzo Cazzo E' che ci siamo quasi, eh ragazzi Guarda che ruba Ma 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 il bastardo Ma l'avevamo riammazzato Tanta carretina Aiuto Perché ma perché Oh madonna Aiuta Nel perdono La forza di un re E qua Come un figlio Oggi ritorno da te Madonna Il gioco ha salvato Sono più colpi di nulla 8 colpi del mitra Che finiscono in un battibaleno Uno batte una balena Battibaleno Daniele che pazzia del cazzo Oh la Finalmente va Che cosa accade Ah due Sì ancora mai Aiuto Scappa 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 Ma Fatto di un male Che te lo raccomando Ragazzi Ragazzi intanto Scusate se interrompo Un attimo qui il gameplay Ma Devo vedere che il gioco Stia registrando Perché siamo in una fase Cruciale del gioco Pausa E poi registriamo di nuovo Dio fa Ok ragazzi Vediamo se Riusciamo a finire il gioco adesso Oppure Non credo Perché Lei vediamo Dio santo Dio santo Ah ok No Passerai sconfiggi guerrieri mortali Ragazzi io mi fermo qua E vi rimando al prossimo video Del canale d'animaggio Rimanete sintonizzati perché Devo interrompere qui il gameplay Sennò viene troppo lungo E quindi in teoria dovremmo essere sempre più vicini alla fine del gioco Per il momento mi fermo qua Al prossimo video Dio fa